ciao amiche e amici dalla vostra incontrovertibile gattaluna il rossetto che ho su devo dire che è splendido è di lancome opaco velluto tipo quello di lisa herridge e questa faceva parte di quella bellissima valigetta in finta pelle rossa che ho ricevuto il regalo a natale questo è il 196 che è questo colore abbastanza difficile da definire sembra un rosso scuro in realtà sulle mie labbra diventa molto brillante ed era assieme a quest'altro che invece il 200 no il 505 si aprono così a scatto che è ancora più chiaro va bene comunque li stiamo provando adesso la prima volta che lo metto su al momento è molto confortevole non so dirvi però se va nelle pieghe o altro ma il tema di oggi è la mia collezione di segnalibri questa è la scatola che li contiene che come vedete è una scatola molto vecchia credo che sia ottocentesca come minimo ma forse anche qualche cosa di più qui a noi bambini veniva permesso di romperla no nel senso praticamente qui c'erano tutte delle immagini che noi staccavamo sotto ce n'erano delle altre poi delle altre probabilmente cose che erano state in successione incollate ed è completamente foderate di questa carta rossastra che però col tempo insomma si è abbastanza sciuppata anche lei andrebbe forse restaurato però vedete anche qui tutta la carta della fodera se tutta parte che è diventata dura non sembra neanche più carta e all in origine aveva anche una serratura e qui ha disegnate due piante due vasi di agave credo che sia agave e dietro e niente nera e basta e qui sopra c'è di se c'era disegnato molto stinto e devo dire anche forse un po' sporco ma io non sto tanto a pulirla perché non so sporco nel senso sporco dei secoli è proprio il vecchiume e c'è il cavallo nella tipica postura del cavallo della carta del cavaliere delle carte napoletane però è sempre stato così non c'era il cavaliere c'è solo il cavallo comunque in questa scatola che era in casa di mia nonna poi l'ho visto per anni in casa di mia mamma e poi dato che mia mamma la voleva buttare le avevo detto se me la dava metto la mia appunto collezione di segnalibri sono veramente tantissimi non è detto che li guardiamo tutti non tutti poi sono veri e propri segnalibri alcuni sono semplicemente delle cartoline o delle pubblicità che erano all'interno dei libri comunque c'è sempre un legame coi libri credo li prendo così a casaccio questo è forse uno degli ultimi che ho usato è della collezione mon jardin di achena e rappresenta una libreria così è un pochino un rilievo con questi dettagli argentati una in una grafica molto tenera dolce queste sono quelli invece se volete un po pubblicitari questo pubblicizza dei libri un libro di enrico caro figlio di già enrico caro figlio né qui né altrove una notte a bari ed un altro libro di enrico brizzi la vita quotidiana a bologna e tempi di vasco e altri libri degli editori la terza sono quelli che ti danno sono abitualmente in omaggio nelle librerie questa è un'altra pubblicità di un 20 per cento del 23 marzo al 30 aprile di chissà quale anno del mulino dell'universale paperbacks e questi comunque sono comodissimi come segnalibri sono sempre questo cartoncino leggero questo è abbastanza recente perché poi quelli più vecchi sono sotto e non li metto mai in ordine e questa era se vi ricordate un libro che ho letto nel 2021 anzi una è una sono tre libri una trilogia di jasmino ward la linea del sangue questo è uno dei tre volumi della nn 5 editore poi abbiamo quest'altro della feltrinelli buone letture meritano buoni viaggi questa era la era lo sconto del 10 per cento prima delle vacanze e ci sono anche qui un po di pubblicità di libri il tema era l'appe ma insomma è dentro sono tutti piuttosto vecchiotti tranne quelli che vi dicevo dentro uno dei libri di appunto di jasmine ward c'era questa pubblicità sempre di nn 5 editore di charlotte wood il weekend molto suggestivo il disegno ecco quindi in realtà questa è quasi una cartolina libreria dal 6 agosto 2020 quindi anche abbastanza recente però l'ho usato magari per i libri un grandi altro segnalibro questo è recente quando siamo andati al museo bagatti valsecchi quando si va per negozi musei mostri eccetera ci sono dei segnalibri in omaggio io quasi sempre li prendo questo è niente meno che dell'expo in realtà è un deplian che ho conservato dell'expo quindi è piegato in 2004 e c'era tutta la piantina questo per ricordo con gli sponsor dell'expo vabbè poi c'è questa è una questa di tanti anni fa era quella storica figuriamoci 2008 quella storica mostra di antonio ligabue a palazzo reale di milano mostra che ricordo ancora molto bene era era una come dire era durava praticamente tutta l'estate un pezzetto dell'autunno era un giorno di caldo torrido noi siamo entrati ed eravamo talmente stravolti tutti sudati rossi come peperoni che il ragazzo alla reception ci ha guardato e ci ha detto vabbè vi faccio il biglietto ridotto per ultra 65 anni anche se noi ne avevamo molto meno perché parliamo comunque di una quindicina di una dozzina insomma di anni fa e quindi ci ha fatto lo sconto anche se eravamo cinquantenni all'epoca questo invece è una cartolina pubblicitaria di q studio che è una marca di make up e di skin care che vi super raccomando è un brand made in italy e di qualità eccellente quando pubblicizzavano questo loro magnifico ombretto che non era verde non era azzurro ed era queen ma sarà di qualche anno fa questo ombretto io sì ce l'ho ce l'ho so anche dove ce l'ho insieme ad altre cose di custodio però si era tutto ossidato perché non erano i tempi del covi di insomma avevo consentito alle mie amiche che è anche persone che non conoscevo che erano lì al corso a ciampucciato dentro penne i pennelli insomma si è completamente degradato non l'ho più potuto usare vabbè fa niente poi abbiamo altro segnalibro che in realtà è un realtà è un deppli ampieghevole tutta pubblicità di libri e qui con questa suggestiva foto guardate che bella di una sposa che si affaccia molto suggestiva ed evocativa quella bellissima collezione della mondadori la collana scrittori italiani e stranieri che ha questa grafica credo che tuttora esista dove sono molto importanti i soggetti delle copertine infatti questo è stupendo poi questo che in realtà è un collage infatti io non ci ho tolto la plastichina per lasciarlo protetto e praticamente c'è un quadratino di cartoncino rigido con una stampa bellissima in questo caso è un gatto che si sta a mangiare un pesce e poi c'è il cartoncino invece più flessibile del segnalibro questo si acquistava questo non era dato in omaggio e c'è questa credenza inglese che dice nella casa dove vive un gatto nero non mancherà mai l'amore l'avamo preso proprio perché all'epoca avevamo un gatto nero la mitica lunetta poi altre cartoline queste sono cartoline pubblicizzare e pubblicitarie di atelier cologne un brand di queste cedra environ composto da cedro del marocco menta cinese e come si chiamano mirtilli della macedonia super consigliato comunque atelier cologne è un brand di meravigliosi profumi unisex come giusto che sia per cui abbiamo una cartolina della schiera non so se si pronuncia proprio schiera col k che è del sostanzialmente del come dire è il è una casa editrice leader nei nei cataloghi delle mostre e qui riproducemo non ricordo assolutamente più che mostra fosse e c'era questo bellissimo quadro qui riprodotto che è di induno girolamo figura femminile un interno o triste presentimento del 1862 come vedete c'è una giovinetta che non so forse si sta facendo la treccia la stanza è un po disordinata con le travi a soffitto insomma il quadro molto bello spero che non ci sia troppo riflesso poi abbiamo altro questi sono di quelli sempre pubblicitari di cristina comincini la bestia nel cuore credo che sia di feltrinelli si ecco qua poi qui ne abbiamo ancora tantissimi prendiamo un po random o questo è di rosy scapparone che è una pittrice che lavorava alle cinque terre non so se lavora lì tuttora e ho io ho comprato delle sue piccole opere ce le ho qui in casa ho preso quelle piccoline perché aveva un costo abbordabile e lei dice credo nella pittura ma credo anche in te che la guardi e forse mi comprendi siamo piccoli granelli su questo stesso grande pianeta ma custodiamo un segreto il mio e il tuo questo era un suo famosissimo disegno ok poi questo il pubblicizza sempre per feltrinelli il film di roman polanski oliver twist non mi sembra che sia stato per me indimenticabile anche se polanski regista di tutto rispetto poi questo è pubblicitario a questo l'avevamo preso in montagna della casa editrice musumeci che fa o faceva non so delle dei libri dei manuali diciamo sulle escursioni e le vie ferrate eccetera poi questo è una catena di librerie molto famose qui in lombardia questo per esempio aveva sede a sesto io in quel periodo frequentavo insomma un centro che era lì proprio a sesto e spesso uscivo e prima di andare a casa magari andavo mi compravo qualche libro eccetera questo invece è un diciamo è un era il cartoncino con cui veniva venduto o l'omaggio dentro a questo fumetto che è il fumetto delle witch le witch sono state un fumetto di enorme successo da non confondere con quelle che sono venute dopo che manco mi ricordo come si chiamano queste credo fosse un fumetto del tutto italiano anche se della disney poi però credo che disegna c'era qualcosa di italiano non ricordo sono cinque ragazze una i capelli rossi una celia neri eccetera eccetera una di etnia orientale quant'altro e questo era il girocollo talismano era in questo in un sacchettino di plastica e questo fungeva un po da sostegno al sacchettino e noi l'abbiamo conservato utilizzandolo come come il come segnalibro e i loro nomi erano will irma tarani cornella e aileen e questa era will che quella insomma era il personaggio preferito di mia figlia tant'è vero che si era anche pettinata fatta fare dal parrucchiere una pettinatura molto simile tinto i capelli di rosso però c'era rimasta malissimo perché sui suoi capelli che sono biondo scuro rosso veniva dei riflessi insomma questo non so perché l'ho conservato era una fascetta di un libro un libro grandioso un'opera letteraria sorprendente libro dell'anno premio internazionale premio napoli non so però non so a che libro faccia riferimento lo usavo come segnalibro poi abbiamo quest'altro che ha una forma un po peculiare anche questo parla di un di un libro di ivette zupac thomas un diamante grezzo non so un libro che non ho mai letto e qui c'è anche il parere di natalia aspesi ok poi ancora questo è un altro sempre di rosi scapparone quindi perché prometto ogni volta che andavamo a trovare ce ne regalava uno anche questo è pubblicitario di rizzoli questo invece si acquistava questo qui con le civette guardate che carino della linea la gatteria che c'era questa grafica molto tenera questo in onore di totò queste erano quelle della fnac la fnac era una splendida libreria che vendeva aveva un piano con i libri un piano con i dischi un piano eccetera eccetera con i film e quant'altro ha chiuso purtroppo i battenti in italia se ne sono andati e questo il segnalibro di totò costava un euro e vi portavate a casa quel fotogramma di questa questo bellissimo era totò pepino la mala femmina quando arrivano a milano qui credo che sia proprio la scena quando parlano col vigilo urbano no vi ricordate dice noio insomma quello lì questo era un altro diciamo pubblicitario del parco regionale della valle dell'ambro il disegnino di questa civetta si agganciava al libro devo dirvi non è molto comodo e qui erano gli auguri di un amico c'è ancora la sua scrittura a poi abbiamo spero di non annoiarvi e insomma è un mi rendo conto è un video un po particolare poi sempre pubblicitario ma anche questo è un deplian sempre della mondadori dei narratori italiani e stranieri qui per un libro presumo di argomento siciliano però non so dirvi di più questo invece di pubblicitario di libri dei folcoquilici questa forma un po arrotondata io ne beccavo uno lo usavo a questo è molto carino me l'aveva portato sicuramente una collega qualcuno dall'egitto è una striscia di lino con una scrittura in geroglifici ma insomma questo è il gerul l'alfabeto con i geroglifici quindi se vi serve poi abbiamo questo non so come mai l'abbiamo conservato quando c'era l'ulivo una formazione politica questo era il loro anche questo erano diciamo un segnalibro diciamo in qualche modo pubblicitario anche questo il nuovo romanzo dell'autore di anime alla deriva di richard mason noi edito in audi non l'ho letto perché poi erano pubblicità di altri libri non necessariamente di quello che avevi comprato poi c'è ogni emozione nasce guardando il mondo ci sono lettere dell'alfabeto questa grafica molto carina e commissione difesa della vista e c'era una pubblicità per andare dall'oculista questo è molto sottile proprio carta infatti è pessimo come 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 dire come segnalibro perché molto molle un romanzo giallo al piccolo san bernardo la pubblicità di un altro libro di giorgio cosmacini non so non sono libri che ho letto e ne aveva ancora tantissimi e il bracciale delle witch ecco qui sempre di quella stessa collana perché nel fumetto a volte a volte lo avvolgeva una plastichina e magari c'era una un piccolo gioiello un piccolo gift ancora di marsilio editore e poi queste di kurt vonnegut un uomo senza patria di minimo un fax anche caro questo è cartoncino questo sempre di minimo fax altro libro che viene pubblicizzato poi c'è cento piccoli libri per farsi un'idea del mulino pubblicizzato anche qui poi questo io uso tutto per questo per esempio l'etichetta di una giacca di disiguale usata come segnalibro ma perché no questo invece è curioso che questi erano era una specie di calendario che era fatto di tanti segnalibri ogni mese ne staccavi uno in questa questi colori molto freddi interessanti insomma di l'autore era ton schulten non saprei dirvi però vedete qui c'era si staccavano era puntinato e venivano via facilmente questa invece era una raccolta di segnalibri che tutti assieme formavano famosissimo quadro della quello dell'onda no forse no di akusai koshi nella provincia di shimosa cinque segnalibri originali che insieme compongono un'opera d'arte a queste cose così raffinate savasandir c'è anche una zattera in questo mare così procelloso savasandir l'abbiamo preso a fnac costava 3 euro poi anche questo è plasticato quindi vuol dire che l'ho comprato il famosissimo bacio del figlio dello sceicco di vilma bansky e rodolfo valentino famosissimo bacio cinematografico poi abbiamo libreria del corso che era una libreria mi sa che non c'è più in corso buenos aires ne ho presi due perché magari sono andata due volte e poi questo qui con questa grafica molto moderna e particolare del 2004 poi questo della rizzoli mamma mia fate sono poi c'è quest'altro invece dove avevo messo la lista della spesa e poi qui pubblicità di un bar che si chiamava design caffè poi un altro che pubblicizzava smettere di fumare era della mia azienda sanitaria anche qui poi c'è questo è il passalibro passalibro era una catena di librerie qui c'è che si trasformava in questo caso in centimetro e diceva anche cosa cos'era la le 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 cose più pubblici i libri più venduti con delle erano delle battute il barbone rampante di calvino la ragazza di pube di cassola cristo si è fermata a stromboli ci sono tutte titoli storpiati così buono so vi fa ridere non lo so questo è molto bello perché è una carta ruvida molto bella c'è il palio di siena e poi l'avventura di narnia quando andavano di moda questo è stato molto usato tutto consumato questi invece me l'avevano dato in un negozio quando dovevo usare taglie molto larghe e questa era in piazza unità di italia tre avi mercate c'era un negozio di taglie abbondanti e poi pubblicità delle azioni urban edizioni urban non so non conosco questo qua avevo fatto io e mi sembrava di essere stata molto brava direi anche no no paola non sei portata per queste cose precise poi pubblicità dei libri bignami che erano famosi bignamini no erano sunti di tutto loro riassumevano tutto poi pubblicità del parco regionale dell'ambro con tanto di nastrino insieme il seta altre pubblicità insomma ce n'erano di tutti i tipi in pubblicità di una rivista di fitness pubblicità della visa pubblicità di cracker di tutte e di più queste altre pubblicità di libri come vedete ne ho tantissimi o questa è deliziosa ma purtroppo si è molto rovinata questa era in cuoio fatto me l'aveva regalato fatto da che era mosse e c'erano due gattini che giocavano ormai completamente estinto e c'è scritto gatto che c'era piaciuto perché il nostro figlio all'epoca iniziava a parlare diceva gatto quando vedeva qualsiasi animale in realtà per lui era tutto gatto c'è un centimetro flessibile questo sono arrivato qui per dirvi se eravate a buon punto con la lettura questa è la pubblicità di una cooperativa con cui lavoravamo sul lavoro questa altra era un calendario del 2000 l'avevo conservato perché sembrava un anno un anno smirabilis delle cinque terre poi il mondo del fumetto che frequentavamo moltissimo con i figli erano piccoli questo invece un segnalibro preso alla mostra di kate ering del non so di che anno era la mostra comunque avevo preso queste sono li riconoscete subito questi che la plastichina che io conservavo nella plastichina sono quelli che si acquistavano pubblicità di questo libro pubblicità di una mostra di bacon pubblicità del bicocca village con questo piccolo segnalibro george simenon questo mondadori bizzarri determinate senza pietà i coniglietti suicidi non so se ve lo ricordate era un comics cinico dove c'era tutti questi coniglietti che esponevano mille modi per ammazzarsi questo avevamo preso a barcelona in plastica l'abbiamo preso all'acquario sicuramente perché il soggetto è di pesci ma non aveva mica finito e vediamo e insomma siamo a buonissimo punto e io poi le rimetto come erano e tanto non ha nessuna importanza poi sempre delle uic guardate che teneri questi adesivi trasferelli in carini poi questo era un portatesserino ma io mettevo tutto per come segnali questo forse il più bello che ho in seta pura ma l'aveva regalato una mia carissima collega e amica è un soggetto chiaramente natalizio con delle scritte augurali eccetera e in seta pura lo tengo abbastanza da conto non lo uso tantissimo poi questi invece sono tutti gli altri perché erano 12 in tutto sempre di quella artista tom schulten e sono i vari mesi no però non si vede più a io ci ho scritto il mese vabbè era dove sono del 2012 e quindi ogni mese costituiva poi un segnalibro sono molto belle questa tonalità e se si dovrebbero essere 12 ogni mese aveva questi naturalmente sono mesi estivi mesi più invernali ed erano appunto ispirati l'utilizzo dei colori era ispirato fonte di ispirazione per l'artista per i colori da usare questo invece era un regalino dove mio figlio ha scritto con la sua scrittura da bambino ha scritto per la mamma di roberto che ero io e ovviamente qui altra pubblicità di libri questa invece la pubblicità di un farmaco antidolorifico se lo dava in farmacia pubblicità di libro e questi invece pure sempre pubblicità di libri rizzoli ci abbiamo di tutto c'è stato poi un periodo che mi piaceva desigual e questo ah sì sì questa era una bellissima giacca però sono prodotti cari poi ho smesso di comprarli mondadori informatica le coperte di somma questo qui si è uguale a quell'altro della proloco uguale a quegli altri due della libreria puccini quell'altra la libreria del corso poi c'è il cioccolato dell'oro nero di firenze quindi quando sono andati a firenze portato a casa pubblicità di un profumo della famosissima eau du soir di cisley però io non l'ho mai avuto il profumo e questo invece è la si è una cooperativa che segue i ragazzi disabili questo è il fogliettino di istruzioni di qualche cosa ah sì di un di un piegaciglia di sefora questo è dell'einaudi con don quichotte questo è carinissimo in metallo è una gatta un gatto nero e queste le zampine le infilavi così asimmetricamente sulle pagine di un libro queste invece sono sempre pubblicità di libri sono quelli se volete meno interessanti questi poi con questa carta così ma queste poi ok quindi sempre libri 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 beppe severgnini a questo ce n'è uno che si era un po perso per strada vedete queste colori estivi infatti era il mese di agosto e queste la longanesi questo è un profumo dell'occitan e vi siete addormentati e questa era la copertina di quel calendario fatto tutto di segnalibri pubblicità di della moleskin e qui era invece una mostra di suo joan mirò al mudec di milano mettono sempre il mese ma mai l'anno il calendario del 2017 sì sì questa era una bio profumeria che per un pochino frequentato e questa era la sede di bergamo ti mi ama bio profumeria poi abbiamo un plastichino questo onestamente si può buttare vuoto poi ci abbiamo filtrinelli pubblicizza altra pubblicità di legami o questi invece una frase questo me l'avevano regalato questi sono quelli che vendono da filtrinelli eccetera con delle frasi famose tratte dai libri pubblicità di quei limoncelli vi ricordate che erano succhi di limone che erano venduti così e questo invece barcellona questo altro regalo smettila di preoccuparti delle buche sulla strada e goditi il viaggio questo me l'hanno regalato me l'aveva regalato il carletto e questa è una persona che credo l'aveva regalato al carletto la vita è come una commedia non importa quanto è lunga ma come recitata di seneca anche questo me l'hanno regalato jim morrison se dovessi scegliere tra il tuo amore la mia vita sceglierei il tuo amore perché il tuo amore è la mia vita ha sempre altra frase questi si compravano è frase di mark twain va beh molto lunga ma praticamente invita a esplorare sognare scoprire quindi qualcuno che aveva una bellissima scrittura a sì questo è un diciamo se comprate avete presente quei libricini per bambini fatti di stoffa e coloro vi mandano questo bigliettino con una una un bigliettino di ringraziamento eccetera in inglese è scritto con la biro proprio dedicato a voi sì sì la jolly design ne sono caduti alcuni vabbè lasciamoli dove sono non non importa e vedo di velocizzare perché ammazza 40 minuti tutti non so se riuscite arrivare fino in fondo usate usate il disegnino dei libri così io capisco che avete siete arrivati fino in fondo la imac g5 alcuni come vedete non sono segnalibri libri questo quando sono andata alla mostra di davila chapelle era molto colpito quest'anno con le sue opere possono anche turbare diciamo ecco qua ho preso due cartoline tra le più innocue i soggetti erano tra i più innocui anche questo l'ho comprato bimbo con le rose il grana padano beh adesso un pochino le pubblicità di profumi diciamo c'è veramente di tutto e di più vediamo se ne trovo qualcun altro che può essere interessante ex libri questo in quella bellissima non so forse ne ho parlato nel mio story time o forse nel video che ho fatto quest'estate il mio rapporto con la montagna questo è un meraviglioso ex libri dove si mostra il monte bianco una stampa diciamo di antica pubblicità di una marca di libri scusate di quaderni anche questo pubblicità di sconti sulla mondadori questo invece si comprava questi sono cani gatti e un orsetto sì sì me le ricordo quelli me le ricordo tutti e alcuni vabbè sono abbastanza insignificanti pubblicità di cinema di film e della coca cola vediamo se ce n'è qualcuno più degno di nota a questo è carino di quello ve lo ricordate diddle questo era così un po leo grafico e rigido questo me l'hanno sicuramente regalato poi sempre di legami un unicorno bianco si stupendo questo molto carino altri di pubblicità direi alcuni sono abbastanza insulsi questo è quando si andava a vedere shrek ti davano il bicchiere con questo poi questo e quindi niente concludiamo ci salutiamo gli altri direi sono piuttosto insignificanti questo forse di una mostra del fumetto il più carino e niente questo sono i miei i miei segnalibri vi ringrazio ringrazio anche chi mi ha suggerito questo video e quindi non mi resta che dirvi alla prossima